Quando un cliente entra, lei che cosa fa? Ecco, dal primo del mese, quindi da oggi, cominciamo a chiedere il Green Pass anche noi ai clienti che entrano nel nostro punto vendita. Abbiamo dotato il negozio di un tablet e di un telefono aziendale, in più abbiamo chiesto ai nostri dipendenti di lasciare acceso anche il loro telefono, scaricando l'applicazione idonea per appunto verificare il Green Pass. Ad oggi con la poca gente che c'è in giro è anche abbastanza facile, speriamo che nel proseguio della settimana non ci siano intoppi. Per accedere è necessario esibire il Green Pass in formato digitale o cartaceo, questo è ciò che si legge sulla porta di alcuni negozi ed è anche ciò che da oggi si deve fare. È l'ulteriore stretta anti-covid decisa dal governo e in vigore da oggi. Non sarà chiesto il Green Pass base nei supermercati, nei negozi di generi alimentari, anche per gli animali o dal benzinaio. E poi, sempre senza certificato verde, si potrà entrare nei negozi di articoli igienico-sanitari, di ottica in farmacia e parafarmacia. Tutte le altre attività saranno accessibili con certificato verde alla mano. Noi speravamo, andando avanti, di avere dei miglioramenti, cioè non tornare indietro. Qui il fatto di dover controllare il Green Pass alle persone che entrano è un ostacolo, chiaramente, per un'attività merceologica che ai tempi della zona rossa era consentito, era aperta. Per chi ha un negozio di giocattoli, ad esempio, luogo di norma frequentato sia dagli adulti che dai più piccoli, il controllo del Green Pass, che ricordiamo viene messo solo per gli over 12, può anche creare qualche incomprensione. Il controllo che dovremmo fare è un controllo a campione, ma a campione, nel senso, è una cosa anche difficile da noi, per noi, da interpretare e anche ritengo per, non so, i vigili o chi viene a controllare. In una città di frontiera e turistica, come Como, le nuove regole di Palazzo Chigi si confrontano poi con quelle d'oltre confine. Proprio in Svizzera c'è già qualche commerciante che strizza l'occhio ai clienti, magari anche italiani, non essendoli obbligatorio mostrare il Green Pass.